Ben 681 nuove società registrate in provincia di Sondro nel 2021, quasi due al giorno, lo rivela uno studio della Camera di Commercio redatto per presentare il punto Nuova Impresa, un servizio utile per farsi accompagnare nei primi passi di un'attività autonoma. La rete è realizzata dall'ente camerale e dalle associazioni di categoria e serve per qualificare e potenziare un nuovo modello organizzativo strutturato su più livelli, in grado di rispondere alle esigenze di un sistema in evoluzione che richiede sempre più preparazione a chi si affaccia sul mercato. Idee, entusiasmo e intraprendenza oggi non sono sufficienti, sottolinea la Presidente della Camera di Commercio, Loretta Credaro. Per costruire un'attività di successo servono conoscenze specifiche sugli aspetti amministrativi, legislativi e finanziari ed è necessario definire una strategia. I dati congiunturali sulla natalità delle imprese in provincia di Sondrio, riferiti al 2021, evidenziano appunto 681 nuove iscrizioni al registro, di queste ben 481 sono individuali. Un numero elevato nonostante la pandemia ancora in atto. Ora l'obiettivo che l'ente camerale e le associazioni si pongono è quello di migliorare il tasso di sopravvivenza delle nuove imprese che a fine 2021 risultava essere pari al 75,8% di quelle nate nel 2018. Con la convenzione sottoscritta nello scorso mese di ottobre, la Camera di Commercio, insieme ai vertici locali di Coldiretti, Confartigianato, Confindustria, Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi, ha assunto l'impegno di collaborare nell'erogazione di Punto Nuova Impresa allo scopo di fornire prima informazione, orientamento e assistenza specialistica agli aspiranti e ai nuo imprenditori. Il primo appuntamento è stato fissato per il 15 dicembre in modalità online sulla piattaforma Zoom.